Musica Abbiamo voluto dire con forza che serve più Europa E che la Toscana vuole fare la sua parte Tanti sono gli eventi Voglio ringraziare la Commissione Europa Per l'importante lavoro portato avanti in questi anni Ogni anno la festa dell'Europa cresce Per far capire alle cittadine e ai cittadini Quanto sia importante investire sull'Europa E noi lo abbiamo voluto fare ricordando Un grande uomo, un grande presidente del Parlamento europeo David Sassoli con una legge ad hoc Istituendo il sostegno alle migliori tesi di laurea Che parlano di Europa Lo facciamo con la presenza di Nana Malaschia Che è stata un'attivista che a Tbilisi L'8 di marzo ha sventolato con coraggio La bandiera dell'Europa Quella bandiera è segno di equità Di giustizia, di riscatto sociale Di più diritti e lo ha voluto fare con forza Anche mentre gli idranti della polizia Tentavano di allontanarla La Toscana sempre più a vocazione europea Ha presentato nel media center David Sassoli Di Palazzo del Pegaso Le iniziative lanciate per la festa dell'Europa Raddoppiati fino a 20.000 euro I fondi per il premio di laurea Intitolato proprio al presidente del Parlamento europeo Prematuramente scomparso David Sassoli Il numero dei vincitori salirà da 3 a 5 Poi l'incontro il prossimo 16 maggio Con un'attivista georgiana Come spiega il presidente della Commissione Europa Francesco Gazzetti Noi in questi anni abbiamo cercato di riempire di contenuti La Commissione Europa E nel rapporto virtuoso che è nato Di condivisione, nel confronto tra posizioni politiche Ovviamente c'è stata la possibilità di mettere in campo Una serie di iniziative, quelle che abbiamo presentato oggi Servono a contrappuntare questo sforzo Quindi la nuova edizione del bando per le tesi Dedicate a Sassoli Poi il coinvolgimento dei comuni Per quanto riguarda l'illuminazione dei monumenti E poi la giornata del 16 Con questo incontro Con la signora Nana Malaschia Che servirà a mettere in evidenza anche una volontà di rapporto Con le questioni e con i temi che sono anche al di fuori dell'Europa Perché ci sono tanti paesi che osservano l'Europa Caricando anche di aspettative e di speranze Magari un rapporto con essa E quindi questo incontro servirà Ovviamente con tutte le proporzioni del caso Con le competenze E soprattutto anche un'emozione di un incontro Soprattutto di umano Anche a mettere in evidenza questo tema Iniziative, ribadisce il vicepresidente del Consiglio regionale Anche per lanciare un forte grido di pace Un messaggio di pace che nasce dalla Toscana Che sempre più si consolida quale regione d'Europa Sentirsi europei per ciascuno di noi È un sentimento che ci unifica Che ci rafforza Che chiede un grande segnale di pace A quella che è un conflitto ormai Che da troppo tempo rischia di passare inosservato Troppe persone stanno muovendo in queste ore In questi giorni Nel silenzio più assoluto E noi vogliamo fare un grido di richiesta Di pace che parte dalla Toscana Assunzioni in sanità al centro di alcuni atti Presentati dai vari gruppi in aula È confluiti in una mozione Che chiede nello specifico Che gli operatori sociosanitari Gli OS presenti nella gradatoria Estar Siano assunti al più presto La mozione approvata con voto unanime Impegna poi la giunta ad attivarsi nei confronti del governo Perché vengano assunti specifici provvedimenti Per consentire la proroga della scadenza Prevista ad aprile 2024 Della gradatoria relativa al concorso Per l'assunzione di OS E che ciò permetta di limitare al massimo Il ricorso al lavoro interinale Un documento di sintesi importante Quello scaturito in aula Dice Federica Fratoni Che si basa su due capisaldi Il primo è sicuramente quello di dare Un mandato forte all'assessore e alla giunta Affinché si impegni nei confronti del governo Per allungare il periodo di validità Delle gradatorie Che è stato ridotto a due anni Che invece deve essere ripristinato Nella sua valenza originaria Di almeno tre anni Perché questo consente ovviamente Una programmazione più lunga Più diluita Soprattutto anche di ammortizzare Di poter utilizzare strumenti Come le gradatorie Appunto che Per le quali insomma Vengono impiegate anche molte risorse Per l'espletamento dei concorsi Il secondo principio È quello di Procedere con l'utilizzo Della gradatoria Per tutti i fabbisogni assunzionali Quindi che siano a tempo determinato O indeterminato Attingendo alla validità A quella validamente in essere Evitando il ricorso A forme di lavoro interinale Cercando appunto di Assumere più personale possibile Dopodiché c'è un punto da chiarire Ovvero che Tutto questo lavoro Che peraltro vede già L'assessore Bezzini Impegnato nella proposta Di un emendamento a Roma Però deve avere di fondo Un obiettivo Che è quello del Miglior servizio sanitario Pubblico universalistico Da offrire al cittadino E questo non può essere Che la risultante Di un mix di professionalità I medici Gli infermieri Mi vengono in mente I tecnici radiologi Tutte le figure Tutte le professioni Che in qualche modo Concorrono alla bontà E alla qualità Del servizio erogato Quindi è giusto Avere delle aspettative Rispetto alle assunzioni A concorsi espletati Soprattutto quando si risulta Edonei Ma prima di tutto La salute del cittadino La qualità del servizio E quindi una programmazione Ponderata Che chiaramente Deve tener conto Anche dei limiti di bilancio E dei limiti di norma Che ancora sono vigenti A livello nazionale Come detto La mozione è stata approvata Con voto unanime La vicenda riguarda La graduatoria Per quanto riguarda Gli OS Ovvero gli operatori Sociosanitari C'è una graduatoria Della Regione Toscana All'interno della quale Ci sono 2000 persone Nonostante questa graduatoria Ancora in essere La Regione Toscana Prende dalle agenzie interinali Anche per fare lavori Continuativi Persone Noi chiediamo E su questo Il consiglio si è espresso Unanimemente Quindi siamo Molto soddisfatti di questo Che si attinga Dalle graduatorie Dalla graduatoria aperta La Regione Toscana Che si eviti Il più possibile Invece Di ricorrere al lavoro interinale Perlomeno Soltanto nei limiti di legge Quindi non si può Coprire un posto In maniera continuativa Saltellando Da un lavoro interinale A quell'altro Noi soprattutto Abbiamo chiesto Con forza Che le 2000 I 2000 OS In graduatoria Vengono tutti Assunti Da parte Della Regione Toscana Perché il servizio Sanitario regionale Ha bisogno In questo momento I 2000 OS Per la professionalità Raggiunta Da questa figura Professionale Si creerebbe Un sistema sanitario Più moderno Più efficace Più efficiente Quindi c'è bisogno Di assumere Tutti i 2000 OS Entro aprile 2024 Per metterli Nel pronto soccorso Per metterli Nel corsio degli ospedali Per metterli sul territorio Per metterli Nel domicilio Delle persone ammalate Quindi la Regione Deve fare uno sforzo Anziché continuare A sperperare Milioni e decine Centinaia di milioni di euro Come fa la sanità Costa 8 miliardi L'anno in Toscana Si assuma Gli OS Presenti in graduatoria E si renda Il nostro servizio sanitario Più efficace E più efficiente Ma è una battaglia Che nasce dal territorio Io per primo Ho avuto la forza Di chiedere all'Aula In questa seduta Di mettere in votazione Questo atto Tanto se ne parlava Associazioni Sindacati Sollevavano la questione Operatori stessi C'è un'attesa incredibile Di OS e di assunzione Quasi duemila persone In graduatoria Da più di un anno Non vengono assunte Fra un anno Scadrebbe la graduatoria Quindi io ho chiesto Come capogruppo Di Italia Viva Di poter inserire In votazione Nella seduta odierna Questo atto Poi c'è stata La condivisione Di tutti i gruppi Consiliari Questo è positivo Quando si trovano Appunto di convergenza Su un testo Così importante Ringrazio L'associazione Noi Siena Che è stata per prima Quella che ha sollevato Questa questione Facendo proprio Il grido di richiesta Di tante donne Uomini In graduatoria Oss Che vogliono lavorare Per un sistema pubblico Vogliono un lavoro Remunerato In maniera adeguata Per la loro professionalità Hanno studiato Sono diventate I donne E i donne In graduatoria Rispetto a un concorso Che hanno fatto E quindi Hanno una legittima Aspettativa Che noi Con l'atto di oggi Chiediamo Appunto Venga Possa essere Rappresentata Dalle aziende sanitarie Che saranno chiamate A questo punto Ad assumerle Nello stesso tempo Una graduatoria Che può allungarsi Nei tempi Per consentire loro Di essere assunte In maniera graduale Ma comunque Partendo già Dalle prossime settimane Sì Alla fine È stato raggiunto Un accordo Fra le varie Forze politiche Che avevano presentate Tutte Più o meno Una stessa mozione È stato chiesto Di fare un lavoro unico Un segnale di unità E infatti È stato votato All'unanimità È stata una soluzione Di buonsenso Che chiede Da una parte Al governo Il prolungamento Della validità Della graduatoria E dall'altra Un impegno Della regione toscana Fa scorrere Quella graduatoria Al posto Di utilizzare Personale Attraverso Il ricorso Al lavoro interinale Quindi Si spera È una soluzione Positiva A livello Proprio pratico Per questi lavoratori Che hanno vinto Un concorso E sono in graduatoria Quindi Un ringraziamento A tutte le forze politiche Per il senso Di responsabilità Che oggi hanno dimostrato E ovviamente Anche noi Del Movimento 5 Stelle Abbiamo sottoscritto La mozione Due mozioni Presentate in aula Rispettivamente Da Vincenzo Ceccarelli Ed Elisa Tozzi Puntano l'attenzione Sul fenomeno migratorio E in particolare Su quello Dei minori Non accompagnati Chiediamo Che il tema Dei migranti Dell'accoglienza Soprattutto Per quanto riguarda I minori Che sono circa Il 40% Di quelli presenti In Toscana Avvenga Con una rivisitazione Complessiva Della normativa Superando La legge Bossi-Fini Che oramai È una legge Molto datata E trovando Delle soluzioni Più avanzate Che consentano Di affrontare Il fenomeno Con umanità Con accoglienza Dando una mano Ai sindaci Che si trovano Poi a dover Far fronte A questi Fenomeni E alle persone Che non Trovando la possibilità Di un'accoglienza Magari Sono portati Anche A fare Vagamondaggio O addirittura A delinquere Quindi Così come abbiamo Detto no In passato A CPR Perché riteniamo Che siano Dei luoghi Di scarsa Umanità Dove le persone Finiscono Per essere Detenute Senza Avere Le colpe Per essere Tali Ci sembra Che anche Un grande Hub Regionale Per quanto riguarda I minori Ripercorra Quella strada Crediamo Quindi Che occorra Invece Puntare Su un'accoglienza Che coinvolga Tutta la filiera Istituzionale Che certo Riguardi le prefetture Ma che riguardi E coinvolga Anche Le regioni Le amministrazioni Comunali Il terzo Settore Cioè Tutti quelli Che anche In linea Con quella Che è una caratteristica Una tradizione Di civiltà Di solidarietà D'accoglienza Della Toscana Possono Affrontare Il problema Con Un approccio Che deve essere Un approccio Prima di tutti Umano E poi Anche Solidare Ecco perché Occorre Probabilmente Da questo punto di vista Il sollecito Alla giunta Al presidente Perché si attivi In sede di conferenza Nei confronti al governo Per una Rivisitazione Che Della legge Che consenta Di poter Gestire Il fenomeno Nella modalità Con cui noi Diciamo Sì sostanzialmente Noi chiedevamo Di venire incontro A quelle che sono richieste Che provengono ormai Da diversi amministratori Anche esponenti importanti Parliamo del sindaco Di Firenze Parliamo anche Dell'assessore Funaro Parliamo del Sindaco di Prato Biffoni Tutti quanti uniti Nel chiedere Che sulla questione Diciamo Dei minori Migranti Si prenda una decisione Ovvero che si metta in piedi Almeno si comincia A ragionare davvero Su un hub Appunto dedicato A minori migranti Che raccolga Questi ragazzi Sostanzialmente Consenta in qualche modo Di gestire un fenomeno Che in Toscana Oggi vede Circa un quarto Delle presenze Appunto di immigrati Proprio formati Da minori Questa è una situazione Naturalmente Che desta Anche nei cittadini Una vera e propria Diciamo Sensazione di Emergenza Emergenza sociale Emergenza di accoglienza Che a livello nazionale Si è provato Comunque a cercare Di gestire Attraverso appunto la dichiarazione Dello stato di emergenza E la nomina di un commissario Straordinario La questione in Toscana È esclusivamente politica Cioè siamo partiti a gennaio Con una richiesta precisa Dopo il comitato Per l'ordine della sicurezza Che si è tenuto appunto Il 13 gennaio Oggi in consiglio regionale La maggioranza Smentisce nuovamente Se stessa Dicendo no Ad una precisa richiesta Dei propri amministratori E sostanzialmente Aggrappandosi Ad una mozione Che nulla dice Nulla aggiunge Nulla toglie Nel dare Diciamo Delle soluzioni Il consiglio regionale Ha approvato Il primo atto E respinto Il secondo Nel corso del dibattito Sono intervenuti Anche Irene Galletti E Francesco Torselli Il problema esiste Ci sono decine Centinaia Di minorenni Presenti in Italia Non cittadini italiani Non cittadini UE Che illegalmente Sono entrati Sul nostro territorio La collega Chiedeva semplicemente Alla regione Di attivarsi Per pensare A una struttura Non si menzionavano CPR Non si menzionavano Centri di espulsione Struttura Che in qualche maniera Facesse fronte A questo problema No La Toscana Proseguirà Il suo sistema Di accoglienza diffusa Ebbene Il Partito Democratico Faccia pace Con la propria coscienza Perché non è Dicendo no A qualsiasi proposta Che si risolvono i problemi Io non lo so Se l'Hub Proposto Alla collega Tozzi Potesse essere o no La risposta Al problema È la presenza Di minori illegali Sul territorio nazionale Ma so una cosa Che il sistema Che continua a proporre La sinistra Cioè quello Dell'accoglienza diffusa Ha fallito Quello ha fallito Perché è vent'anni Che lo mettiamo in piedi Ed è vent'anni Che fallisce Quindi benvengano Tutte le nuove Sperimentazioni Ovviamente la Toscana Ne fa una battaglia ideale Ne fa una battaglia ideologica Ne fa una bandiera ideologica E continuiamo Con il sistema Dell'accoglienza diffusa Che è un fallimento Che è una battaglia ideologica 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 Che è una battaglia ideologica